Crisi climatica, erosione, consumo di suolo, concessioni balneari, aree a rischio inondazione inaccessibili dalle spiagge per motivi di illegalità e di mare inquinato sono i sei indicatori al centro del report per misurare gli impatti sui lidi. Con questa iniziativa Lega Ambiente mappa per la prima volta gli eventi meteo estremi nei comuni costieri e indica al governo Meloni sette interventi da mettere in campo a partire dall'approvazione del piano di riettamento al clima della legge sullo stop al consumo di suolo, garantendo almeno il 50% delle spiagge in ogni comune, lasciato alla libera e gratuita fruizione. Anche la regione Abruzzo fa la sua parte, data anche l'applicazione della direttiva Bolkesten e c'è interlocuzione con la Sib, sindacato italiano balneari. È fondamentale intervenire con azioni concrete attuando piani e strumenti di governance che permettono di programmare interventi volte al miglioramento della gestione dei territori, dichiara Giuseppe Di Marco, presidente regionale Lega Ambiente e conclude, rispetto al tavolo interministeriale teniamo a precisare che purtroppo le ragioni dell'ambiente sono spesso tenute fuori. Non sono state invitate le associazioni ambientaliste ma solo quelle che raggruppano gli operatori del settore e le amministrazioni. Lega Ambiente fa un assunto e il focus sulla condizione delle spiagge. E le spiagge dal punto di vista quindi dei cambiamenti che si sono avuti negli ultimi anni, in particolare tra il 2010 e il 2023, cambiamenti dovuti al cambiamento climatico, quindi ai fenomeni erosivi ma anche all'attività dell'uomo che insistono in maniera sempre più evidente sulle nostre spiagge.